Tutto pronto a Melpignano per la grande serata della Notte della Taranta. Miglia e gli spettatori che seguiranno da vivo lo spettacolo. La pizzica della liberazione del maestro concertatore Enrico Merò si aprirà il concertone alle 21.30. Alla giovanissima madame il compito di riscrivere e interpretare altri tre brani nel ruolo di voce narrante al banno sul palco di Melpignano anche il volo. Quest'anno la direzione artistica è affidata all'orchestra popolare.